Miei cari animalucci, benvenuti nel mio primo video tutorial riguardo la didattica. In realtà era un progetto che avevo in mente da tempo immemore, ma vi devo confessare per paura, non ho mai avviato. Infatti questo sarà un video senza tagli, senza troppe scelte tecniche, non ho nemmeno il microfono, sarà quindi un tutorial molto selvaggio, molto grezzo come lui e riguarderà la nomenclatura chimica. Lo so, lo so cosa state pensando, lo so che mi state dicendo, pensate alla salute e a godervi le vacanze estive. Eppure avete ragione, però anche io ogni tanto mi annoio e quindi ho bisogno di fare qualcosa in più. Nel tutorial che sarà diviso in vari step, in vari video, vi volevo presentare la mia personalissima struttura di nomenclatura chimica. Partendo proprio dalle basi, infatti i primi video saranno un po' troppo elementari, darò per scontata alcune cose, ma magari le farò presenti in corso d'opera, per arrivare poi a scoprire il meraviglioso mondo della chimica e della sua nomenclatura, che molto spesso anche dai colleghi, docenti di scienze viene un po' distrattata, mi rendo conto anche per mancanza di tempo e a volte anche per mancanza di interesse da parte vostra, è colpa vostra. Quindi sarete abili un giorno a dire delta 9 tetra idrocannabinolo, ma soprattutto capirete anche gli effetti di questa molecola, o forse li conoscete già. Comunque, a parte gli scherzi, io direi di cominciare e avviamo il primo video tutorial che riguarda la nomenclatura chimica.